Su segnalazioni di alcuni cittadini che si ricavano da questo medico, che avevano avuto sentore che c'era questo medico che rilasciava queste false certificazioni senza ottemplare a fare il vaccino e quindi abbiamo fatto delle attività tecnici, abbiamo fatto dei servizi e abbiamo scoperto che questo medico praticamente dietro compenso di 300 euro a persona rilasciava queste false vaccinazioni di avvenuta vaccinazione senza averli effettuati. E con il medico Vicentino sono state arrestate altre sei persone nell'ambito di un'operazione dei carabinieri del NAS di Padova, 278 casi di false attestazioni di avvenuto vaccino e solo una delle operazioni che i militari del NAS hanno compiuto nel 2022 nel territorio di loro competenza che comprende le province di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo, un'operatività che spazia su più campi d'azione. Ci ha tenuto impegnato molto spesso sull'aspetto sanitario, anche sull'aspetto del controllo agli esercizi pubblici, esercizi commerciali, bar, ristorazione, anche sotto l'aspetto sanitario perché adesso nel periodo di pandemia abbiamo fatto vari controlli anche sulle farmacie, sui presidi sanitari, sul rispetto delle normative anti-covid e anche sotto l'aspetto della ristorazione e delle varie catene alimentari di produzione. Molti, gli studi medici, principalmente di medicina estetica e di odontoiatria, controllati. 25 studi medici dove praticamente esercitavano delle figure professionali senza avere i vari titoli abilitativi, fra studi di estetisti e studi di odontotecnici che praticamente esercitavano senza avere i titoli abilitativi per la professione medica. La collaborazione con i cittadini è fondamentale, sottolineano gli uomini dell'arma. Il consiglio per verificare se un dentista è realmente abilitato a praticare la professione è di consultare gli albi degli ordini medici. Tutti gli albi dei vari medici comunque sono sempre a disposizione, quindi quando uno ha un dubbio, se si rivolge a qualche studio medio che non conosce o comunque che non è stato consigliato da qualche altro medico, dal proprio medico di famiglia, si può rivolgere benissimo agli albi dei vari medici per accertare effettivamente se si tratta di un medico, se si tratta di un dentista, ci sono i vari albi. Faccio! Grazie a tutti.